Calcio di punizione per il Castelfrentano, il risultato sull'1-0 per il Castelfrentano sul gol di Cristian. Il nostro numero 10 Michele ha la battuta. Colpisce la barriera, la ribattuta, la parata del portiere. Ed è calcio d'angolo. Ci ripiate? Riprendo pure il calcio d'angolo? Michele, va bene, va bene. Facciamo sto gol, dai raga. Giocarlo, dai don D. Ma come chezzo fa 4 contro 1? No!